Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video con Vimi su Kao de Kangaroo ed eccoci di nuovo qui nelle terre gelate Dobbiamo semplicemente andare a vedere la saggia capra 41 rune ho adesso, meno male Devo affrontarla Long time no see, Walter Indeed, oldie I see you have a new apprentice Still in the old boring fighting business? Same business you were once devoted to The world is changing And of course, only you would stay the same Ah, enough of this After all, you've finished your renewal And I don't want to disappoint my clients Let us fight them We'll see if you've trained him well, Walter It's full of crystals Okay Ready? Dammi fuoco Fuoco What do I do? What do I do? What do I do? What do I do? Devo fargli colpire Lo specchio Di nuovo dietro lo specchio Potremente farsi colpire da sola Ah, non ho più il fuoco Dammi il fuoco Oh Aia Ti è Ti è Ti è Ti è Ti è sempre peggio Oh Ok Mi ha cambiato poco Grazie Ti è Ah, con quel cattacco lì Congela Aia Però di tanto mi colpisce Non è facile Non è facile Oh Di stare dietro allo specchio Ehi Potrei cavalcarlo Fatto E adesso Oh no Questa è una mossa da Naruto però Mi serve il ghiaccio E non è il ghiaccio adesso qui Da giù Aspetta a dirmelo eh Congela Che è successo? Che è successo? Tanto alto Sono saltato Coda? Non ce l'ho fatta Ahia No eh Vado di sopra Vi metti di sopra? Perché no? Ma scusa Ma scusa Ma c'è una barriera Impessibile Cosa specie di Lo vedete anche voi? Vorreste avvicinare Più di così? Guarda Guardate Non ci riesco Adesso È come se questa barriera qua Forse Sempre lì Nooo Sono matto completamente E si ricomincia Oh Bene E adesso di nuovo Guarda senti è inutile quella cosa della coda adesso si perché prima no maledetta prima avevi una barriera stavi citando di la verità di nuovo prima siccome si era buggata perché non è possibile ho trovato ancora vera stavolta no stavolta non ce la fai a cittare altro che vecchia saggia che è per il suono di santa ragione no di nuovo poi sarà di nuovo quella vera quella trovata come l'ho trovata non lo so ma è quella che sempre ti mette per prima te 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 anziana dei miei stivali di canguro ecco So, Walter, tell me about this apprentice of yours. I can do it myself, thanks. I'm K.O., and I'm looking for my father and sister. They've both gone missing, and I'm sure this eternal champion person has something to do with it. Hmm. Not too long ago, I met another kangaroo. She was also keen to learn about the crystals. That has to be Kaya! She spent some time here, as bright as she was stubborn. She even learned spirit-walking. Where is she now? I told her where the crystals come from, and that's where she went. The Isle of Eternity. Sure sounds like the place where we'd find the Eternal Warrior. Indeed, it does. I haven't been there myself, but I don't believe it takes a genius to put the two together. Okay, then. Let's go, coach. There's no time to waste. Good luck, Walter. I guess I'll see you around. Bye, Oli. I would have wanted to stay there and talk a little bit more about it, I don't know. I don't know. I don't know. Okay. You've overcome all the trials. We're going to the Eternal Warrior. That's a really impressive gadget. I knew you'd like it. Who wouldn't? Hop on, and let's see where this little bird can take us. Maybe it won't catch fire this time. I'm joking. Anyway, fly, my pretty. Fly! Oh! Ha trasformato davvero la barca! In un aereo! Ma dai! Ma questo gadget è proprio un genio! I hope you fasten your seatbelts! Wait! Did I add seatbelts? I'm sure they are there somewhere! Sto buttando. Serve la cintura. No! Turbolenza! Fantastico. Oh-oh. Ah! 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 This is Gadget's plane! Oh, well. Poor Gadget. Rest in peace. No! It's the plane! His original plane that Kaya stole! She must be here somewhere! Hm. Non è che dovremmo approntare davvero. Magari è stata stregata dal potere come gli altri? Sai com'è? Hm? Un nuovo potere! Forza del vento? Il vento! No. Il vento. Ah! Ma è una foglia! Ma foglia sarebbe la terra! Non il vento! It's so cool! Magari! Kyoko would be so jealous of all these awesome abilities! Oh, indeed! I am sure that she will! Hm? Hm? Che salveglia. Hm? 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 Mi attiro! Attiro le cose! Oh! Qualcuno canta! C'è qualcuno che sta cantando! Non sarà mi Kakaia? Magari per farsi udile. Ma è esploso subito! Neanche il tempo di spostarmi! Dove sto andando? Giaccio! Dove sei? Ah! Oh no! Sono tolote dei rani! potevo tirarli questa forza del vento così perché non ho fatto niente lingua c'è mannaggia ghiaccio un circo la cappa la cappa la cappa pesa ma quindi questo è un intero livello non ci sono livelli su livelli no questo è proprio un un'isola dove devo andare avanti è l'ultimo livello forse allora rostrone ho visto altri tuoi simili solo ora so come ti chiami ha perso il becco sei finto ok tutti sono attestivi qua sai che siamo proprio dove sarai il grande boss non c'è un boomerang c'è il check point però oh oh e non volevi accenderti ah di qua si scende vero già vabbè così strabico ma guarda la ruota panoramica molto sicura molto sicura io ci salirei sicuramente già non salgo su quale normali figurati vai ci è mancato poco un colecino grazie ahia ho un cuore solo e ancora un'intera isola petra da esplorare e qua c'è Donkey Kong son tornati i barili che rotrano dire Donkey Kong no no pergamena ho trovato la pergamena un altro uccellaccio questo mi lancia questo mi ricorda anche tu hai un vecchio finto che che sono vecchi finti ah perfetto voleva rubarmi il colecino appena guadagnato no no le scimmie tutto ciò che ho affrontato finora appare tiè le scimmie adesso le cape no quelle quelle che sparano le pecore spostati tiè basta finito no l'uccellacci no ma no no ai tenta insieme non vale così tiè mamma mia una mia benissimo altro circo scimmie salve scimmiette ciao potevo risparmiarmelo eh però ma che siamo a natale oh ti pareva che non usciva il gorilla un po' di fuoco per te chi è? chi è? c'è di qua c'è di là la ruota panoramica funziona mancano due lettere però vedo vai là o dove saranno secondo voi in questo posto posso andare sulla ruota panoramica yeah no 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 non si fa cosa sto facendo? dove mi sto salvando? aiuto cao calma 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 ok cosa ho fatto? ma si può aggrappare alla grata? ma è perché si può aggrappare alla grata? eh di nuovo no ma no voglio rifarlo ma perché è stato what? ma è perché mi sono attaccata sempre alle aaaaaa ok dove sono? aiuto aiuto come mi sono salvata devo andare solo lì buona sarà la fine? non è così buono dopo tutto quando ci sono solo i due di noi e quella vecchia non c'è dove si è trovata prendo prima la runa? non mi sa che non ci riesco a passare qua scusi? tu puoi indicarvi come c'è un clown o clown ecco ci siano nel circhi la runa non la riscopena mi sa oppure c'è la starà apposta ecco cosa? eh ciao ambiente tipico eh zucca lì poi così non scoppoli? c'è qualcosa lì di utile? tipo un maule speravo nella lettera dovrei riprenderla non c'è una strada per arrivarci oh salve ci vediamo di nuovo no non sono qua da mangiare ma guardalo lì dentaccio come lo insulto ma salve salve non sapesse dimmi come farà il cup ecco la runa che c'è lassù sarà un modo per salire cos'è? oh si no oh oh vai calma sangue freddo ora e devo andarci qualcosa mi dici sì anche se non mi piace ma io devo andare lì queste un altro c'è poi sì ma la runa devo andare devo tornare in detto è un labirinto oh il labirinto cioè di là o di qua come preferisci? ho trovato un pozzo 6 13 ah ma no non si fermano pozzo numero 13 è stata che il 12 mi sa siamo ancora qua non ho preso ah questa ho preso non può essere così semplice dov'è il tranello? eh dobbiamo andare da sono stata qui oh mia telecamera è angusto troppo stretto questo corridoio però ho trovato il baule eh eh perfetto finito così semplice è pieno di clown e halloween ciao perché non vieni tu qui? sai? potresti venire tu qua eh no? devo venire io? ti sicuro? che ci ho mandato io? che? potevi andarci da solo senza fare tante storie e anche tu ciao cosa? una pezza addio ma che torna indietro cos'è? una leva dimmi che è quello che penso oh pruna ed è quella che aha e vedi? e vedi che non sono fatte a casa le cose qui? ehm 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 e voilà però questo labirinto si sta rivelando un po' lungo eh ah è già finito Ok. E' come here by yourself? Walt and Gadget are with me. And these gloves too. I can, uh, talk with them? It's a long story. Oh, I know the story. Those gloves on your hands are no coincidence, K.O. It's only with their help that you can destroy the Eternal World. There is no way he can. We are the Eternal Gloves. We belong to the Eternal World. We belong to the Eternal World. We most certainly do not feel like destroying it. But you already are, aren't you? You're purifying the world by sucking up the Eternal Power. Whether you like it or not, you will be the end of it all. Ooh, we shall see about that. Oh, be quiet. How have you come to know all this, sis? That's a really long story. And wearing this ugly costume is part of it. But we don't have time for all the explanations now. I know Dad is somewhere on this creepy island. The only question is where. We'll find out. Have you got a plan? I know there's a crystal rune as a prize for winning the whack-a-mole game. Okay. We can never have too many of those. Let's do it your way then, sis. My way is always the best way. Oh, how I missed hearing you say that. Well, we found our so-web I am going to find a job. I'm going to find our so-web I am going to find out. Oh, try to find out. Oh, I see. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. dieci a chi ha parlato ha fatto che poi spiego tutto per soddisfazione ha superata e non ho preso nella nella o così sono bene Sì, è vero. Questo è l'abbigliamento locale Va bene Smettili Ok Bene Direi che per questo video posso fermarmi qui Preparatevi perché per la prossima volta affronteremo questa grossa porta E speriamo di trovare il padre sano e salvo Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia Se vi va fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale e condividete per aiutarmi a crescere E vi ringrazierò sempre tantissimo per il vostro supporto Ci vediamo alla prossima Sempre con Vimi Ciao ciao